Salve, sono Antonio Geremia, un insegnante di scienze delle scuole superiori e vi voglio parlare del registro elettronico che ho costruito con LibreOffice Calc. Si tratta di un semplice file di LibreOffice Calc con tre schede, la scheda assenze, la scheda valutazioni e la scheda programma. Questo registro elettronico può sostituire completamente il registro cartaceo. Nella scheda assenze c'è l'elenco degli alunni e c'è il posto, le varie colonne rappresentano i vari giorni, in ogni colonna si possono mettere oltre alla data del giorno per esempio il mese di settembre, il 12 settembre, metto il numero di ore svolte, due ore e la colonna si colora e qui mettiamo le assenze, per esempio il signor Mario Rossi è assente per un'ora. Poi c'è la scheda valutazioni, qui vengono inserite i voti, la scheda è suddivisa in moduli, ho presisposto 4 moduli nel primo periodo, primo trimestre e 6 moduli nel secondo periodo, ad esempio il secondo quadrimestre o pentamestre. Ovviamente si possono usare i moduli che servono, quindi si possono nascondere quelli che non servono e usare gli altri. Qui si inseriscono solo i voti e i commenti ai voti, per esempio Bianchi Giorgio ha preso un 5. Posso mettere un commento al voto, questo è un orale del 20 settembre e quindi ho il mio voto e inizio a comparire la media. Le colonne gialle rappresentano la media dei diversi voti del singolo modulo, quindi se il signor Bianchi ha preso un 5 e un 7, la media del primo modulo sarà un 6. La colonna azzurra alla fine del periodo rappresenta la media dei diversi moduli, per esempio se il signor Bianchi ha preso 6 di media nel primo modulo e 8 di media nel secondo modulo, complessivamente la sua media del primo periodo è 7. La colonna successiva serve per mettere il voto del primo periodo, per esempio se lui ha la media del 7 gli metto un 7, la condotta 9 e iniziano già a completarsi anche queste colonne alla fine che riportano i dati complessivi del primo periodo. Nel secondo periodo ho ancora diversi moduli, anche qui posso inserire i voti, per esempio il primo modulo del secondo periodo, il signor Bianchi ha preso un 4 e poi ha preso un 8 nel secondo modulo. La media dei due moduli è 6, mi compare già una media annuale, 6 e mezzo, perché lui ha 6 nel secondo modulo e 7 nel primo modulo, qui mi compare la media annuale e quindi io posso decidere il voto finale, per esempio 6 e la condotta del secondo periodo, 8 e ammesso, non ammesso o giudizio sospeso, immaginiamo che sia ammesso, sia ammesso, ok basta mettere un A e quindi ho completato, ecco questo è un semplice esempio di come si può usare il registro. La terza scheda è il programma e qui giorno per giorno viene inserito il programma che si svolge in classe, per esempio il giorno 12 del 9 c'è stata la conoscenza della classe per un'ora. Il giorno 15 di settembre ho parlato della cellula per due ore, quindi inserisco quello che viene fatto in classe e mi compare alla fine del modulo il numero di ore complessive. Sulla destra posso inserire i compiti per casa studiare il capitolo 1. Se questa colonna non serve si può sempre nascondere vi faccio un esempio di utilizzo del registro elettronico su file, questo che vi mostro è il registro che ho utilizzato l'anno scorso, nell'anno scolastico 2012-2013, togliendo i riferimenti agli alunni alla scuola. Ecco vedete questa è la scheda assenze, scheda valutazioni e scheda del programma svolto. Ho nascosto le righe e le colonne che non mi interessano rendendolo più compatto. Per questa è una classe di 16 alunni. Quindi vedete che per ogni giorno, qua sopra compare il mese, il giorno e il numero di ore svolte in quel giorno, il numero 1 rappresenta quando l'alunno era assente, G quando si giustificavano, le colonne bianche sono quelle colonne vuote. Qui sopra si possono espandere o comprimere gruppi di colonne per rendere il registro più compatto. Notare che alla fine del periodo c'è la somma delle assenze per ogni alunno e anche la somma dei giorni svolti dal docente, delle ore svolte e dei giorni svolti dal docente. Questo è il secondo periodo, anche qui i giorni fatti, le assenze, le giustificazioni e alla fine la somma totale. Andiamo a vedere la scheda delle valutazioni. Ecco, in questo caso io ho fatto due moduli nel primo trimestre e tre moduli nel secondo pentamestre. Ho nascosto quindi gli altri moduli e anche di ogni modulo ho nascosto le colonne dei voti che non mi interessano. Qui ne ho lasciata una, per esempio, per farvi vedere. Quindi qua ci sono uno, due, tre, quattro colonne a disposizione per i voti e una colonna per i più e i meno. Ecco, qua potete vedere, per esempio, un utilizzo reale dei voti. In rosso compaiono i voti insufficienti e i pallini rossi rappresentano le note dei voti. In genere le note le mettono i voti orali per indicare la data e gli argomenti chiesti. Qui sopra l'inizio di ogni colonna si può mettere o il tipo di voto, per esempio qui ho scritto orali per dire che qua sotto ci sono tutti gli orali, oppure la data del compito e posso anche mettere una nota per dire che tipo di compito è stato svolto. Questa diceva la colonna diciamo dei più e dei meno. A volte siamo abituati a mettere questi più e meno che modificano leggermente il voto complessivo e qui compare la media complessiva del modulo. Quindi ho i due moduli con le due medie. Alla fine del periodo c'è la media dei due moduli. Quindi questi voti in sfondo azzurro fanno la media dei due moduli che vedete. Stesso discorso per il secondo periodo. Quindi ci sono tutte le medie e alla fine c'è il giudizio finale, ammesso o non ammesso o giudizio sospeso. Ecco, una cosa importante è che i voti, anzi le medie, possono essere, anzi sono pesate. Quindi io posso attribuire un peso ad ogni colonna e anche alle medie, per la media generale. Mi spiego. Per esempio nel primo modulo io ho fatto degli orali e un compito. Allora io posso, in questo caso, vedete, in questa casella c'è un 10. Questo è il peso del voto. Il peso può andare da 1 a 10. 10 è il peso massimo, 1 è il peso minimo. Allora io posso decidere che gli orali possono avere un'importanza minore rispetto al compito, se voglio, e quindi questi orali invece di pesare il massimo possono pesare la metà rispetto al compito. Quindi metto 5 e cambia la media. In questo caso la media, diciamo, si sposta di più verso il 10. Facciamo un esempio. Allora, qui mettiamo 8 e qui mettiamo 4. Ecco, la media dovrebbe essere 6. Invece notate che la media è quasi 7, perché l'8 pesa di più rispetto al 4. Inoltre posso pesare i moduli. Quindi questa media finale del periodo posso dire che, che ne so, il secondo modulo è più importante del primo. Infatti qua ho messo un peso 10, qua ho messo un peso 7. Per cui questa media che osserviamo, diciamo, tiene più conto del secondo modulo. Infatti è un quasi 6. Vediamo, se io qui metto 5, togliamo questo. Ecco, qui ha 5 e qui ha 7. La media dovrebbe essere 6. Però pesa di più questo secondo modulo e quindi la media è un po' più spostata verso il 5. Infatti è 5,8. se per esempio abbassassi ulteriormente il peso del primo modulo, mettiamo 2, e conserviamo che la media è ancora più vicina al voto del secondo modulo. In questo modo posso decidere l'importanza dei diversi voti e fare in modo che la media sia significativa. Quindi quando devo mettere poi il voto finale, posso, diciamo, basarmi in modo significativo sulla media che osservo. In questo caso potrei mettere 5. E il voto si colora, i voti insufficienti si colorano di rosso. Quindi il colpo d'occhio è molto importante. Quindi innanzitutto vedo tutti i voti in poco spazio. Quindi ho tutti i voti sotto controllo, tutte le insufficienze sono evidenti, ho sempre le medie aggiornate e quindi è molto pratico, molto utile, diciamo, nel lavoro in classe, nel lavoro didattico. Ecco, nella terza scheda c'è il programma svolto. In questo caso ho nascosto la colonna dei compiti per casa, perché in generale il compito per casa era studiare l'argomento svolto in classe, non davo esercizi particolari e quindi l'ho nascosta. Però si può sempre visualizzare. Eccola qua. Quindi c'è sempre, ma se voglio io la nascondo. Eccoci qua. E qui riporto la data della lezione e l'argomento della lezione. Il numero di ore dedicate a quella lezione. Alla fine mi compare in automatico il totale. La cosa interessante, anche qua diciamo il programma svolto viene suddiviso in moduli, come tutta l'attività didattica. Con i colori si possono evidenziare, per esempio, degli argomenti che erano stati previsti, ma non sono stati svolti. Qua, diciamo, in rosso. Quindi questo argomento, per esempio, era previsto, ma non è stato svolto. Oppure, ecco, io posso evidenziare in blu un argomento che non era previsto, ma è stato aggiunto. E in questo modo, diciamo, balza subito all'occhio, diciamo, come è stato modificato in itinere il programma previsto. Vi diciamo che è un registro molto pratico, veloce da utilizzare perché non è collegato ad internet. Poi vi spiegherò, si può anche mettere il file sul cloud, su un server internet, sincronizzare, insomma, si può anche mettere su internet a disposizione di altri, facilmente, però comunque io lavoro sempre col file sul computer, quindi è tutto molto veloce e funzionale. Ora vi mostro come si possono sincronizzare i file creati, i file del registro elettronico, come qualsiasi altro file, su Google Drive. Ci sono diversi siti che mettono a disposizione strumenti per sincronizzare file online, renderli disponibili, condividerli. Quelli di Google Drive è un esempio. Quindi bisogna andare su una pagina di Google, bisogna crearsi un account con Google e accedere all'account. Adesso accedo con i miei dati. Ecco, una volta entrato nell'account, si hanno a disposizione diversi strumenti, per esempio Gmail, però quello che vediamo adesso è Drive. Drive ha una duplice funzione, è praticamente un office online, infatti qui si possono creare diversi tipi di documenti office, quindi documenti, foglie di lavoro, presentazioni, disegni, eccetera. Oppure è semplicemente un hard disk online dove emettere i propri file. Per poter attivare la sincronizzazione bisogna scaricare questo programma che è il Drive per PC, quindi si scarica questo programmino, si installa, nell'installazione viene chiesto dove creare la cartella Google Drive. Per esempio nel mio caso ho creato la cartella di Google Drive nell'hard disk D, quindi c'è una delle mie tante cartelle, si chiama Google Drive. Ecco, quello ci sono già dei miei documenti sincronizzati, tutto quello che viene messo qui comparirà in quella specie di spazio virtuale online. Allora qui compare anche l'icona di Google Drive, questo ci permette sia di aprire la cartella di Google Drive sul computer, sia di visitare lo spazio sul web. Allora io adesso apro la cartella di Google Drive, che è questa che abbiamo visto prima, e qui dentro metterò per esempio la cartella che contiene i nuovi registri che ho creato. Questa è la cartella con i registri e la incollo qui dentro. Ecco, notate che compare questo simbolo, vuol dire che adesso Google Drive sta sincronizzando la cartella con i registri contenuti e li sta praticamente mettendo online. Ecco, la spunta verde vuol dire che la cartella con i registri sono stati sincronizzati. Andiamo a vedere la cartella online. Ecco, noterete che è comparsa una cartella qui, che si chiama registri 2013-2014, che era la cartella che avevo messo prima sulla cartella di Google Drive. E qui dentro ci dovrebbero essere, ecco, qui ci sono i registri che mi interessano. E poi cliccando sulla cartella, io posso decidere con chi condividere, con quali altre persone condividere questi registri. Quindi vado sull'opzione condividi. Ecco, qui io posso adesso per esempio è privato, quindi diciamo solo io posso accedere a questa cartella e ai registri, però io posso modificare, quindi cambio l'impostazione e posso dire che questa cartella la può vedere chiunque abbia il link, per esempio. Non solo, posso dire che chiunque abbia il link può o visualizzare o modificare. Chiaramente io dico solo visualizzare. Salvo le impostazioni. Ecco, chiunque ha ricevuto il link può visualizzare. In realtà, diciamo, l'unica cosa che potrà fare sarà scaricarlo sul proprio computer per aprire i file, ma non caricarli. Bene, a questo punto il link è questo qui sopra e lo posso fornire attraverso email, attraverso un qualche sistema a chiunque ha necessità di scaricare i miei file.